Presidente, oggi è una giornata speciale per il Parco, in occasione di questi 100 anni, un annullo filatelico e le emissioni di una moneta dedicata proprio a questi 100 anni. Esatto, un momento unico, abbiamo due grandi occasioni, quello dell'annullo filatelico e quello della moneta, che saranno evidentemente, rimarranno nel tempo, quindi l'annullo filatelico ma anche la moneta saranno espressioni di questo centenario per i prossimi anni e rimarranno a memoria di questo evento straordinario. Il Parco compie 100 anni, 100 anni di storia, 100 anni di un Parco che ha coniugato lo sviluppo socio-economico alla conservazione. È un parco, questo, che è nato in un territorio antropizzato, è nato in un territorio dove sono presenti ed erano presenti dei borghi, è un parco che è nato coniuganto, io credo, in maniera abbastanza esemplare, la conservazione della natura da un lato e lo sviluppo socio-economico dall'altro. In un momento in cui proprio questi argomenti sono sul paniere non solo ambientale ma anche politico. Esatto, io credo che l'ecologia non debba essere a servizio degli uomini, gli uomini devono far parte dell'ecologia, quindi questo territorio credo che ha saputo interpretare bene questo concetto, ha saputo mettere insieme un equilibrio tra uomo e natura importante ed è riuscito a dimostrare che se l'uomo si rende partecipe del sistema ecologico funziona tutto in maniera migliore. Cento anni di storia, cento anni di tante iniziative, di tanta evoluzione, di tanta crescita e quindi giusto che sia così e lo Stato riconosce con il franco rannullo filatelico e con la moneta. E' anche un po' a suggellare quella che cento anni fa aveva una grande intuizione su questo territorio, la costruzione di questo parco che porta lustro alla nostra regione, porta lustro anche in un momento particolare come questo, il tema centrale in questo momento è la vicenda legata all'orso e noi siamo un modello perché costruito negli anni con dei protocolli specifici, con il protocollo Pato, ma con una cultura che si sta elaborando, cioè una forma di coabitazione dove, ecco, io mi permetto di dire al centro deve esserci e c'è l'uomo per quanto mi riguarda questa è la mia posizione e ovviamente riuscire a tenere insieme tutto questo. Però ecco, siamo in una giornata di festa, giornata importante, lo Stato è presente qui a Pesca Ceroli proprio a testimonianza del grande lavoro fatto in questi cento anni.